buongiorno ragazze buongiorno a tutti buona domenica video super 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 velocissimo ma volevo chiedervi una cosa vorrei che mi scriveste sotto nei commenti qualsiasi domanda qualsiasi curiosità che avete nei confronti miei e di mia sorella risponderemo a tutte le vostre domande a tutte le vostre curiosità in un video specifico quindi faremo un video ask dove risponderemo tutte le vostre domande quindi mi raccomando io vi aspetto qui sotto nei commenti io prenderò tutte le domande sia qui che su instagram quindi ho lasciato anche un box un box domande su instagram quindi mi raccomando io vi aspetto prossimamente con il video con mia sorella ovviamente domani ci vediamo in un nuovo video vi mando un bacio e buona domenica